La tensione è alta, Rolandi. Eh sì, è altissima. Oggi abbiamo organizzato un presidio proprio davanti alla sede dell'azienda e domani ci accingiamo a fare la prima azione di sciopero di quattro ore su tutto il territorio regionale. Noi contestiamo fondamentalmente la mancanza di dialogo nei confronti di questa azienda che usa soltanto insultare, a cominciare dal proprio presidente. Ci hanno definito assolutamente, durante la fase pandemica, che eravamo degli sciacalli, ci hanno definito schizofrenici quando abbiamo detto che non era pensabile trattare personale di nuova assunzione già formato, non corrispondendo alla contrattazione di secondo livello. Ci ha definito irresponsabili anche quando abbiamo denunciato i tanti disservizi che si continuano a registrare su tutto il territorio regionale. Pretendiamo rispetto da parte di un'azienda pubblica. Maschitti, nello specifico, le richieste sono state già fatte da tempo. Quali sono le priorità? Le priorità sono il ripristino del turnover. Oggi noi scontiamo una carenza di 300 posti lavorativi. Questo management con toni autoritari e molto lesivi verso la collettività e le maestranze sta attaccando di fatto la professionalità di questo settore. E' fatto da un'azienda pubblica in un contesto che parla di ripresa e resilienza. L'aggressione alla professionalità di questo settore non possiamo permetterla. Qui si fa gap contrattuale e l'azienda vuole amplificare questo gap contrattuale facendo cassa sulla pelle dei lavoratori che sta sfruttando da tre anni. L'ultima perché abbiamo notato sul profilo Facebook dell'azienda tua sono tantissimi i disservizi denunciati dai cittadini. Sì, eppure nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con l'azienda a margine peraltro della riunione in commissione di vigilanza dove la stessa impresa si era impegnata a risolvere la vertenzialità con le organizzazioni sindacali eppure tutto questo è stato negato. C'è stato detto che il margine e il disservizio è ridotto ai minimi termini quindi evidentemente la società non legge quello che gli utenti scrivono sul proprio profilo Facebook aziendale. Grazie.